Buongiorno a tutti, sono Paolo Svaldo Agnelli, Chief Technology Officer del gruppo De Pasquale e di Sint, realtà di cui parlerò in questo intervento in quanto nuovo socio dell'Italian Insure Tech Association e sponsor di questo summit. Con l'associazione, oltre che condividere la necessità di innovazione a 360 gradi, il nostro settore di riferimento, quello dell'Advanced Outsourcing applicato all'Insurance e quindi all'Insure Tech, ci poniamo l'obiettivo di far cogliere alle compagnie assicurative le opportunità offerte dalla nostra azienda attraverso le nostre tecnologie e i nostri servizi digitali, frutto di una lunga esperienza e di percorsi di ricerca e sviluppo. Chi è Sint? Sint nasce nel settore assicurativo, entra a far parte del gruppo De Pasquale nel 2016 e da allora si posiziona sul mercato come operatore leader nel campo del business process outsourcing per il settore assicurativo. Nel tempo e molto velocemente, soprattutto negli ultimi tre anni, è cambiato lo scenario più generale all'interno del quale operiamo. È cambiato il mercato assicurativo e l'approccio all'outsourcing e questo soprattutto grazie alla tecnologia e alla conseguente digitalizzazione dei processi. L'implementazione della tecnologia oggi è sempre più diffusa e un approccio consapevole la sua applicazione ha abilitato, e continua a farlo, un consumatore più smart e più esigente, organizzazioni aziendali sicuramente più agili e più pronte a cogliere nuove opportunità. L'evoluzione del settore assicurativo è infatti all'insegna della digitalizzazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Da tempo le compagnie assicurative hanno intrapreso un percorso di digitalizzazione, volto a far evolvere la propria offerta in un'ottica di maggiore personalizzazione, di maggiore accessibilità ai propri servizi, aggiungendo anche servizi non assicurativi per presidiare nuovi ambiti. Stanno puntando allo stesso tempo all'automatizzazione dei processi interni per semplificare ed essere più efficienti e recuperare efficienza. Lo stanno facendo investendo in partnership con outsourcer e player tecnologici. Chi come Sinta ha sempre creduto nell'innovazione, investito in tecnologie capaci di abilitare processi più snelli, una gestione operativa più efficiente ed efficace nelle persone, creando specifiche competenze di processo, normative di gestione, dell'interazione con l'assicurato e delle tecnologie che abilitano processi più snelli, una gestione operativa più efficiente ed efficace. Oggi è capace di guidare una industria in continua evoluzione e di rispondere efficacemente e con rapidità alle esigenze del mercato di riferimento. Sint è oggi infatti in grado di attivare il suo ecosistema tecnologico fatto di re-ingegnerizzazione di processi, automi con le tecnologie più sofisticate presenti sul mercato, componenti di intelligenza artificiale e tutto ciò reso disponibile attraverso i propri operatori per aumentare l'efficienza dei processi di ogni compagnia. Quali le tecnologie su cui Sint sta investendo e che sta già adottando? Tra le tecnologie alcune sono particolarmente importanti per noi, sono quelle che stiamo già adottando internamente e che stanno generando vantaggi concreti nei nostri servizi di back office e di customer service. L'intelligenza artificiale, la robot process automation, la video interazione, i servizi offerti dalla blockchain, i servizi cloud ed hybrid cloud. Sulla base di questo abbiamo sviluppato il servizio LiveClaim, la soluzione innovativa che Sint ha sviluppato per la gestione dei sinistri. Alla base tutte queste tecnologie, una soluzione di gestione dei sinistri unica nel settore, full digital e real-time basata su un mix sinergico di personale specializzato in primis, processi e tecnologie che puntano a semplificare e migliorare un momento critico di interazione fra la compagnia e l'assicurato. L'apertura di un sinistro, LiveClaim, fa leva su due degli asset fondamentali dell'azienda. Operatori esperti che facciano da orchestratori di tutto il processo e le tecnologie video interazione, RPA, AI generativa impiegate in fasi del processo quali lo speech to test per l'ascrizione della video interazione e per la sentiment analysis, strumento importante per capire come sia andata l'interazione. Tutte queste tecnologie di fatto integrate in un'unica piattaforma proprietaria denominata Chiaro, piattaforma di business process management e creano di fatto un ecosistema digitale, chiave in mano per la compagnia, che così può ottimizzare e gestire i propri processi in maniera agile nella gestione dei suoi processi con l'assicurato con i vantaggi importanti in termini di business e di fidelizzazione dell'assicurato, oltre che di semplificazione e ottimizzazione di processo. Live Claim è persinte la prima evidenza di una strategia che punta a mettere a disposizione degli operatori del settore ecosistemi digitali pronti all'uso in diversi ambiti assicurativi. Live Claim è totalmente personalizzabile. Forti dell'esperienza Live Claim come ecosistema digitale pronto alla rivoluzione della gestione dei sinistri continueremo ad investire in tecnologie e competenze da combinare in modalità sinergica in processi più snelli. Crediamo nel potere della tecnologia e ne sosteniamo un approccio umano dove quest'ultima possa diventare un alleato dell'essere umano e non un sostituto. Solo così potremmo restare sempre più attrattivi e pronti a rispondere alle sfide di un mercato che è in costante evoluzione. Innoviamo e rendiamo semplice ciò che fino a poco tempo fa era complesso, a vantaggio delle persone e delle compagnie. Tutto per crescere.